Salta l'udienza, già fissata per il 22 luglio in Cassazione, del processo per la morte di Martina Rossi, la studentessa Ligure precipitata dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011. Uno slittamento che arriva a seguito del ricorso presentato recentemente da Alessandro Albertoni, che si aggiunge a quello, già noto, presentato dall'altro imputato, Luca Vanneschi. Il ricorso presentato dall'avvocato Tiberio Baroni, difensore di Albertoni, infatti, si è materializzato solamente quando i legali di parte civile, i genitori di Martina, hanno fatto istanza in corte d'appello perché la sentenza su Albertoni venisse dichiarata irrevocabile. Solamente allora la Cancelleria del Tribunale di Perugia ha comunicato che c'era l'impugnazione pendente. L'udienza sarà quindi svolta nell'ultima sessione estiva, quella che nel mese delle ferie legali sostituisce l'attività ordinaria per i casi urgenti, dove c'è il rischio di prescrizione che in questo caso scatterà ad ottobre. Nei prossimi giorni sarà fissata la data, probabilmente alla fine di agosto. I due imputati, entrambi di Castiglion Fibocchi, furono condannati in primo grado a sei anni di reclusione, tre per tentata violenza sessuale di gruppo e tre per l'accusa di morte come conseguenza di altro reato, una sentenza che poi fu dibaltata in appello quando vennero assolti sino alla Cassazione, che ha annullato l'ultimo verdetto ordinando un nuovo processo che alla fine di aprile scorso ha portato alla condanna di tre anni per la sola tentata violenza sessuale, essendo caduto in prescrizione l'altro reato.